Mi chiamo Gianni Del Re e mi sono candidato con una lista civica cattolici democratici per l'Aquila. Questa scelta di scendere in campo me la dà proprio la coscienza perché abbiamo necessità di persone che mettano la faccia in quello che fanno in questa città e per appoggiare Massimo Cialente nel futuro di questa città perché credo che bisogna dare una continuità a Massimo Cialente. Altrimenti perderemo ulteriore tempo per quanto riguarda la ricostruzione che è fondamentale per andare avanti su questo territorio. Quindi ritengo che l'appoggio a Massimo Cialente debba essere incondizionato e che tutti noi aquilani dobbiamo impegnarci affinché questa cosa possa riuscire. Grazie. 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 Grazie.